A margine del Consiglio no. Io mi spoglio dalla veste di Primo Ministro, mi metto la veste di componente della famiglia socialista e democratica. Non tanto a margine, abbiamo fatto una riunione stamattina a cui erano presenti sei o sette capi di governo della famiglia socialista e democratica, o cinque o sei forse. Era presente Martin Schulz, era presente Gianni Pittella e certamente c'è un sostegno da parte della famiglia socialista e democratica. La candidatura di Gianni Pittella, peraltro l'Italia potrebbe anche cascare bene in qualsiasi modo, ma vedremo.